Prima semifinale vinta, non senza timori, non senza rischi, ma vinta e vinta contro un'ottima avversaria, giovanissima ma brillante, acchiappatutto in difesa, trascinata dal duo Bughignoli-Lodi. Si parla, logicamente, dell'andata tra Imola e Altino, finita 0-3 con parziali, primi 2-23, da brivido, identici nello svolgimento, due volte 23-21 per l'Emiliane, due volte con Lestini, 19 punti in tutto, decisiva tra muri, schiacciate e altro, e la firma finale della Olleia. Per il resto, a parte la solita performance della Longobardi, 18 punti della bravissima Mancina, la squadra ha tenuto altissima la concentrazione, capace di reagire ai momenti difficili, alle pause che ci sono sempre, con la forza di ribaltare in modo analogo la criticità del momento e dominare l'ultima frazione, chiusa a 17, praticamente senza storia. Il tutto lascia presagire che sia un centimetro dalla finale, sebbene il prespapa, orgogliosissimo delle sue ragazze, predichi umiltà per gara 2, in programma a Valle Anzuca di Francavilla, domenica 6 alle 18.30. L'Altino cercherà di evitare sorprese, l'Imola resta temibile, ma anche di vincere col massimo punteggio, che darebbe alle Rosso-Blu la possibilità di incrociare, nella finalissima per l'A2, secondo regolamento, una formazione meno forte, almeno sulla carta, delle altre. In particolare, non da poco. Presupposti e aria che tira, insomma, decisamente proaltino, cuore, testa e tecnica, che sia finalmente la volta buona.